Veterinari Podcast, il podcast dei clinici per i clinici. Insieme ci teniamo aggiornati su argomenti di diagnostica veterinaria. Dove vuoi, quando vuoi. Siamo su Veterinari Podcast, benvenuti. Patrizia Sica è di nuovo con Andrea Ciraulo. In una delle puntate precedenti avevamo scoperto che cos'è il podcast e perché un medico veterinario può ascoltare un podcast in un'ottica di aggiornamento dove vuole e quando vuole. Questa puntata invece la dedichiamo a qualche cos'altro. Andrea, perché un veterinario dovrebbe fare un podcast? Patrizia, bentrovata, bentrovati anche tutti voi che ci state ascoltando. Perché fare un podcast è fondamentalmente per comunicare la nostra professione, la nostra professionalità. Tutti noi, tutti coloro che lavorano magari come liberi professionisti oppure che lavorano comunque nel mondo scientifico come quello dei veterinari, prima o poi nella loro vita si potrebbero trovare di fronte alla necessità di comunicare il fatto che sono dei professionisti e di comunicare quindi la propria professionalità. Anche in un'ottica, banalmente, non è sempre detto ma anche in un'ottica di trovare nuovi clienti, di trovare nuove collaborazioni, di trovare modo di fare dei nuovi lavori. Fondamentalmente facendo un podcast io metto a disposizione la mia conoscenza, cosa che è strepitosa anche soltanto da un punto di vista etico se ci pensi, cioè io faccio vedere alle persone che so delle cose e le racconto ad altre persone che quelle cose lì non le conoscono. In questa maniera io attiro nuovi clienti, è il cosiddetto content marketing per cui io creo dei contenuti di valore che metto a disposizione gratuitamente per le persone per attirare una, sempre parlando un po' tecnico, quelli bravi dicono una audience. All'interno di questa audience potrebbero esserci quelli che sono i miei futuri clienti o anche semplicemente quelli che possono diventare dei miei collaboratori. Inoltre anche escludendo tutto l'aspetto del trovare collaborazione clientela c'è anche la parte dell'autorevolezza, nel senso che se io racconto le cose che so all'interno di un progetto la mia autorevolezza o l'autorevolezza percepita delle altre persone aumenta e aumenta di smisura devo dirti. Mi piace citarti per concludere una frase del Vangelo che dice che se tu hai una bella lampada non la metti sotto al letto ma la tieni in bella vista all'ingresso della casa. Beh la nostra competenza, le nostre capacità sono una bella lampada e allora visto che le abbiamo è bello metterle in mostra. Grazie mille Andrea anche perché forse non abbiamo rivelato l'altra volta un altro aspetto, un'altra potenzialità del podcast ovvero c'è anche un po' di interattività possibile con gli ascoltatori, ci sono delle stelline, ci sono la possibilità di commentare quindi in qualche maniera creiamo un legame oltre a farci conoscere. anzi da questo punto di vista chi fa podcast è molto contento se c'è questo tipo di interazione innanzitutto perché fa capire se sta facendo un buon lavoro ma anche magari semplicemente perché scala l'audience e quindi diventa più visibile. Ho detto qualcosa di sbagliato? No è più che corretto è instaurare delle buone relazioni è uno dei motivi più validi per cui dovrei fare il podcast. Il podcast in particolare anche rispetto ad altri mezzi mi permette di instaurare delle relazioni molto molto profonde. Fare un progetto di comunicazione online, di comunicazione digitale per un professionista come possono essere i veterinari senza avere come obiettivo quello di instaurare delle buone relazioni beh sarebbe un progetto un po' zoppo. Lo scopo di comunicare è proprio quello, le relazioni sono il succo sono la parte più importante del lavoro in generale ma della comunicazione digitale in particolare. E quindi cari veterinari non vi resta che provare anche perché in altre categorie molto simili alle nostre ci sono già dei podcaster molto famosi quindi non barricatevi dietro il concetto ma si parla di medicina sono un medico veterinario non c'è professionalità da questo punto di vista perché sappiate che ci sono già dentisti e psicologi che da questo punto di vista hanno dei bei canali e hanno una bella riscontro dal punto di vista pratico. E come considerate che il podcast oggi è un trend nettamente in crescita è una cosa che sta aumentando le persone stanno scoprendo i podcast ascoltano sempre più podcast ma ancora in Italia non è una cosa abbastanza famosa da dire beh quell'ambito è saturo di comunicatori quindi posizionarci oggi come comunicatori nel mondo del podcasting ci permette di acquisire da subito una posizione importante banalmente il veterinario che oggi vuole fare un podcast sul mondo veterinario è il secondo perché il primo è veterinari podcast di my love in termini cronologici però è uno dei primi a farlo si posiziona subito in un ambito in un settore e quindi in maniera piuttosto facile riesce anche a scalare le classifiche in virtù in vista poi di un ampliamento di questo mondo e quindi anche di un arrivo dell'arrivo di un audience molto grossa. Quindi perché proprio un podcast e non qualche cosa altro? Beh i motivi per fare un podcast nel particolare non qualcos'altro per esempio una pagina facebook un profilo su instagram un canale youtube sono molti alcuni di questi dipendono più dalle proprie attitudini personali se a me piace parlare piuttosto che scrivere probabilmente sarò più portato a fare un podcast piuttosto che un blog per esempio però per quanto mi riguarda ci sono anche delle motivazioni oggettive e concrete che mi fanno preferire la comunicazione tramite podcast rispetto ad altri canali te ne cito soltanto tre per non annoiarti e per non annoiare chi ci ascolta la prima è quella che a me piace chiamare intimità il fatto che il podcast sia utilizzato con le cuffiette mentre l'ascoltatore fa tutte le cose della vita quotidiana mentre lava i piatti mentre fa le pulizie mentre va in palestra a volte mentre si sta addormentando mentre guida per andare al lavoro permette alla persona che parla al podcaster di entrare in forte relazione con chi sta ascoltando e di instaurare una relazione molto intima il secondo motivo è la possibilità di approfondire a differenza di altri mezzi tu pensa youtube che ti obbliga in qualche maniera a rimanere seduto davanti allo schermo e che proprio strutturalmente dà molte distrazioni alla persona che ti segue tu pensa la famosa colonna di destra dei video suggeriti di youtube che entrano in forte concorrenza con quello che tu stai dicendo il colui che ti guarda dice clicco sulla colonna o continuo a guardare il tuo video beh nel caso del podcast invece la persona clicca su play e poi fa altro e mentre fa altro ti sta ascoltando questo permette a te comunicatore di poter approfondire maggiormente il discorso che stai portando avanti anche soltanto in termini di tempo che tu spendi nel nel parlare un podcast può durare dieci minuti ma può durare anche un'ora e mezza e se una persona interessata a ciò di cui tu sta parlando ti ascolterà per un'ora e mezza terza e ultima cosa che ti voglio raccontare che un po una una conseguenza delle prime due è l'autorevolezza è una cosa che ti ho accennato anche poco fa il podcast permette di farti diventare autorevole se tu racconti le tue competenze le racconti in maniera intima e approfondita beh le persone che ti seguono iniziano a percepirti come una persona estremamente autorevole nel tuo campo è successo a me è successo a tutti i podcaster e potrebbe succedere anche a coloro che ci stanno ascoltando e soprattutto potrebbe essere un'occasione di approfondimento di un settore che forse non ci hanno tanto insegnato a scuola all'università che è quello di imparare a comunicare con i propri clienti a volte non è così semplice togliersi il cappello di medico veterinario e quindi è necessario prepararsi in ogni caso a questo tipo di attività perché un conto è parlare fra colleghi un conto è parlare al proprietario e quindi può essere un'occasione per sfidarsi e da questo punto di vista studiare e trovare occasioni di formazione in tal senso sappiamo che esistono già dei corsi di comunicazione per i veterinari che mirano all'interno magari di practice management o di altre tipologie di specializzazioni di approfondire anche questo aspetto c'è chi ce l'ha naturalmente e quindi ci sono dei veterinari bravissimi e comunicatori fortissimi da questo punto di vista c'è qualcuno che invece può prendere questa occasione per sfidarsi da questo punto di vista credo di aver dato degli di aver avuto l'occasione con questa puntata di dare degli spunti se non altro di riflessione per i colleghi e poi permettetemi avete capito che è importante avere tante stelline ed avere dei commenti positivi per salire in classifica premiate questo primo podcast dedicato ai veterinari e votateci grazie a presto ciao